Questo rischio è un rischio già in parte concreto, nel senso che se ne sono andati sei medici anestesisti che non sono stati rimpiazzati, ne è stato rimpiazzato soltanto uno più tre specializzanti che ovviamente non hanno l'autonomia gestionale. Poi ci sono dei primari che hanno preannunciato, abbiamo letto sulla stampa che se ne stanno andando, il primario della chirurgia che ha vinto un concorso in Umbria, il responsabile della cardiologia di Fano e il primario dell'ospedale di Urbino del pronto soccorso. Sono medici che se ne stanno andando e queste notizie delle quali abbiamo chiesto contezza all'assessore regionale non sono state smentite. La nostra è una grande preoccupazione perché in questi anni, dopo quattro direttori generali che sono stati cambiati, le dimissioni del direttore sanitario e con dei responsabili di strutture molto importanti per la salute dei cittadini che se ne stanno andando, siamo preoccupati perché la sanità nella nostra provincia, nella provincia di Piesi Urbino, nell'Astuno, sta dimostrando di essere sempre più nel caos. La preoccupazione è grande, Saltamartini non ha smentito queste notizie e quindi vorremmo che ci fosse più attenzione, più condivisione e anche più rassicurazioni agli operatori che stanno in prima linea a difendere e a curare la salute dei cittadini.